a destra. Grazie a tutti. 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 Istante che... 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 fio... In un caso una rosa, foglia, foglia, la spea, così gente e profonda non fiava. I fiorchi o faccia, ahimè, i fiorchi o faccia, ahimè, non hanno odore. Altro di meno le saprei narrare, sono la sua vicina che la viene fuori d'ora infortunare. Grazie. 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 Anche qui abbiamo poche parole da dire, anzi non ne abbiamo proprio, perché abbiamo ascoltato ascoltato melodie così belle, abbiamo ascoltato voci che ci hanno davvero portato in un'altra dimensione e noi vi diremo semplicemente un semplice grazie, siete stati fantastici davvero tutti e questo applauso ve lo dimostra. E poi sono nel nostro cuore, non fosse altro perché la Rotary Symphony Orchestra, quindi diciamo ecco abbiamo ancora Rotary Symphony Orchestra, del Rotary, del Rotary, del Rotary, del Rotary. Allora che dire, davvero grazie, avete fatto vibrare le vostre corde ma dentro di noi sono andate in sintonia tante altre corde e ci avete davvero regalato delle emozioni emozioni grandi, grandi davvero e come fare a ringraziare un soprano così? Come facciamo a ringraziarlo davvero? Vogliamo soltanto dare un piccolo segno del nostro ringraziamento? e questo è il nostro tenore. ringrazio. Ringraziamo. Ringraziamo. La nostra pubblicazione. Grazie. Non ci sono sembrati. Anche ne ha fatto bene. tanto vanno... Bene, maestro, se non bisogna stare sul podio, ritorna sul podio... Questa è un piccolissimo, un milissimo segno del nostro ringraziamento, della nostra riconoscenza시 nei tuoi confronti che ovviamente è nei confronti di tutti voi maestri d'orchestra che siete venuti qui stasera per darci veramente un conforto grandissimo. Per noi è stata una giornata di intenso lavoro e questa sera ci avete dato la forza giusta e l'energia per riprendere. Quindi grazie, grazie a tutti voi, ringraziamo il vostro maestro che è anche il nostro con una semplicemente una targa al ricordo e ovviamente il nostro Gaetano e comunque la nostra riconoscenza va al di là, al di là di questa. Grazie. Grazie davvero. Bravi, bravi, bravi. Grazie. 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 Grazie.